Buon pomeriggio e benvenuto in questo nuovissimo video relativo ad Amazon. Siamo all'episodio numero 5 della serie Come vendere su Amazon Step by Step. Una serie totalmente gratuita che ti porterà passo dopo passo sempre di più nel mondo Amazon. Bene, come sempre ti invito anche ad iscriverti al canale, lasciare un like se questi video ti piacciono e comunque se vuoi rimanere aggiornato. Nel frattempo c'è un temporale sottofondo ma nessun problema. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti alla pagina prodotto, ovvero abbiamo visto i campi principali da inserire nello scorso episodio e oggi andiamo a vedere come andare a creare appunto la descrizione e titolo ovviamente della pagina prodotto come anche le parole chiave da inserire. Quindi questo sarà l'argomento di oggi e come sempre ovviamente ti ricordo che per fare tutto correttamente stiamo utilizzando Helium 10 come software. Mi raccomando, troverai il link in descrizione e nel primo commento per ottenerlo con un 10% di sconto a vita, quindi su tutti i mesi, oppure 10% di sconto annuale o un 20% di sconto sui primi 6 mesi. Ti basterà cliccare sul codice sconto direttamente e verrà applicato per la versione Platino che è quella che personalmente ti consiglio. Mentre se vuoi scaricarlo annualmente, quindi cliccando sul codice sconto avrai la versione mensile, quindi il pagamento ricorrente mensile, cliccando su inizio oggi verrai rimandato ai piani annuali e su quelli si applicherà solamente la versione del 10%. Quindi mi raccomando, scaricatelo, altrimenti è impossibile fare le cose correttamente, non puoi indicizzare, non puoi creare delle campagne sulle giuste parole chiave, non puoi analizzare un mercato ancora più importante, quindi mi raccomando, scaricalo. Lo trovi nel primo commento, perciò è fondamentale. Ripeto, ti basta cliccare, ad esempio, ti faccio vedere sul codice sconto e verrai mandato al checkout, inserisci i tuoi dati e lo sconto è già applicato. Quindi, come vedi, qua è già applicato lo sconto e sei a posto. È un investimento che ti farà risparmiare tantissimi soldi. Bene, andiamo all'argomento di oggi. Abbiamo visto, siamo nella sezione scarpiere, quindi è un esempio ovviamente, e abbiamo trovato una scarpiera, ok, quindi che vogliamo differenziare. Adesso abbiamo già capito come differenziarla nei scorsi episodi, ascoltando i clienti, e oggi vediamo come creare il giusto listing in pochi click, grazie sempre ovviamente ad Alium10. Come facciamo? Bene, questa era la nicchia di mercato e questo è il competitor principale. Questo che avevamo visto prima, da cui prendiamo ovviamente spunto per creare anche il nostro listing e analizzare anche che cosa ha fatto e perché l'ha fatto. Ovviamente ci interessa lui perché è quello che sta effettivamente generando più di 180.000 euro al mese solo in Italia con questo prodotto. quindi ovviamente fondamentale. Cosa facciamo? Apriamo le estensioni da Alium10, selezioniamo il seller principale, andiamo ad aprire sia Serebro, per prenderci, come hai visto anche nello scorso episodio, credo se l'abbiamo visto, comunque sì, andiamo a prenderci le parole chiave principali. Comunque il processo l'abbiamo fatto per trovare la nicchia, quindi una nicchia interessante. E allo stesso tempo apriamo anche Listing Analyzer. Sono due strumenti che adesso ti vado a spiegare. Serebro ci serve per appunto tramite il prodotto andiamo a trovare tutte le parole chiave che sono inerenti a quel prodotto, quindi che vengono cercate dai clienti per risalire a quel prodotto lì. Invece Listing Analyzer ci permette di vedere la qualità effettiva del listing. Ora, in live tutto richiede un pochino di tempo per il caricamento, ma comunque ci si arriva. Qui vedi tutte le parole chiave appunto principali. Come sempre ti consiglio di selezionare la posizione organica nelle prime 15 posizioni, quindi quelle parole chiave andiamo a filtrare dove il seller, il prodotto in questione, sta arrencando nelle prime 15 posizioni in modo organico, quindi senza campagne. Applichiamo il filtro e vediamo che di più di 1000 parole chiave diventano 185. E di 185 poi noi ordiniamo per volume di ricerca ed ecco trovate le parole chiave principali che sono ovviamente quelle inerenti al prodotto, quindi essendo una scarpiera, quelle inerenti alle scarpiere. E facciamo finta di prendere ovviamente quelle che hanno più volume di ricerca, quindi magari fino ai 5000, quindi fino a scarpiera componibile. Ovviamente poi vanno selezionate, ma qui per semplicità le prenderò fino a scarpiera componibile. Inoltre apriamo anche Listing Analyzer e abbiamo già un'occhiata, una panoramica del listing, quindi andiamo a vedere effettivamente un po' tutto, quindi le vendite un po' totali, ci fa vedere anche le unità vendute magari. Possiamo vedere il BSR, quindi la classifica best seller, ovviamente più bassa è, come vedi in scaffale portascarpe è primo questo prodotto, quindi ovviamente vende tantissimo. Qua vediamo un po' una panoramica, comunque sono dati che consiglio di dare un'occhiata molto rapidamente, ma questa è la sezione diciamo che ci importa di più invece, l'analisi del punteggio della qualità del listing. E come vedi appunto ci dice dove si può andare a migliorare, ad esempio non include un video, quindi se noi ad esempio poi abbiamo un marchio registrato, possiamo inserire un video per migliorare la situazione, per il resto invece diciamo che tutto è più o meno corretto, a parte il titolo, ma comunque un 8.2 di listing è buonissimo. Quindi ecco, il listing è già fatto bene, infatti è questo qua, è fatto già bene, inoltre anche i contenuti a plus mi sembra, eccoli qua, quindi le immagini che si possono inserire solo con il marchio registrato, quindi un buon listing e sicuramente ci serve prenderlo di spunto, e ovviamente se c'era qualcosa in più da migliorare, lo andiamo a migliorare. Per il resto ci dà una panoramica anche dell'analisi di mercato, quindi per le entrate e tutto vediamo che la media dei primi 5 è 28.000, ma solamente lui fa 188.000 euro al mese, il prezzo è molto più alto della media a cui vende. Possiamo vedere il numero di recensioni che sono molto più basse rispetto alla media, nonostante questo riesce a vendere molto e questo è interessante, quindi noi dobbiamo differenziarci molto e fare le cose fatte bene, e anche le valutazioni, vabbè, sono in linea. Qui ci rida il top parole chiave, ma ovviamente questa sezione qui non ci interessa perché appunto stiamo utilizzando Serebro, quindi abbiamo visto una panoramica che consiglio sempre di aprirti per avere un'idea del listing, di cosa poter migliorare, quindi questo sicuramente è utilissimo, in pochissimo tempo, come vi dirvi, abbiamo uno screening, e su Serebro andiamo a prenderci invece le parole chiave principali che ci serviranno per creare il nostro listing, quindi abbiamo detto fino ai 5000, quindi fino a Scarpiera Componibile, come si fa? Andiamo su Esporta dati e clicchiamo su Frankenstein. Ora Frankenstein a cosa ci serve? Io lo utilizzo solamente per copiare le parole chiave in tempo breve, perché altrimenti qui copiare le parole chiave, come vedi, diventa difficile selezionarle. Invece con Frankenstein quello che succede è che ci prendiamo fino a Scarpiera Componibile, mi sembra che era, eccola qua, e copiamo e basta, ok? Semplicemente per questo lo utilizzo. Fatto questo abbiamo trovato le parole chiave principali e quindi già queste parole chiave qui noi le inseriremo sicuramente nella pagina prodotto, nella sezione parole chiave. Semplicemente le copiamo e le incolliamo qui, in questo modo qua, senza virgole, e abbiamo i termini di ricerca. Per quanto riguarda descrizione e punti elenco, che sono questi, come vedi, ovviamente, e titolo anche, che troviamo nell'identità del prodotto, come facciamo? Beh, andiamo a utilizzare un altro strumento di Helium 10 nei tool, andiamo in Listing Builder. Quindi abbiamo anche Listing Builder, abbiamo visto Cerebro, Listing Analyzer, Frankenstein, e questo è il Listing Builder, che ci permette di creare un listing prendendo come spunto uno già esistente, in questo caso, quello che sta facendo le cose fatte bene, quindi il seller in questione. Andiamo a mettere aggiungi un listing, i crea da zero, ovviamente mettiamo il marketplace di riferimento, l'asin, quale asin mettiamo? Quello del seller principale, quindi questo. Ogni tanto controllo se il microfono è attivo, perché altrimenti non si sente niente, mi tocca riregistrarlo. Quindi scorrendo nelle formazioni del prodotto, prendiamo l'asin, che è questo, e lo incolliamo in Listing Builder. Aspettiamo un attimo che venga preso, iniziamo a creare. Ci chiederà di inserire le parole chiave principali, quindi aspettiamo un attimo ovviamente che carica. Quindi, una volta fatto questo, le parole chiave ovviamente già ce le abbiamo, che sono quelle estrapolate con Cerebro, quindi quelle cinque che poi troviamo in Frankenstein, insomma quelle cinque un pochino di più. Qua aspettiamo che lui sta un po' creando il tutto, perché praticamente quello che fa Listing Builder ti fa creare un listing sulla base di uno esistente. Quindi ovviamente sta prendendo in questo caso l'asin che abbiamo inserito, quindi il prodotto, e lo sta ricaricando. Ovviamente richiede un attimo di pazienza. Spero di farcela, a fartelo vedere, e che non si blocchi tutto, perché altrimenti ovviamente mi tocca di registrare il video. Comunque vediamo un attimo. Se riusciamo. Siamo un po' lenti. Comunque sì, è quello che faremo, e poi da lì, ecco, ce l'abbiamo fatta. Qui ci dice di creare un gruppo di parole chiave, mettiamo Aggiungi manualmente le parole chiave, incolliamo quelle che abbiamo preso prima, ovviamente non questo che è l'asin, ma sono queste. Copiamo e incolliamo. Aggiungiamo alla banca, o come la chiama lui, vedrai che qui ti compariranno i dati di queste parole chiave qui. Mettiamo su prossimo e vedrai che ecco qui un listing intero fatto sia a titolo e punti elenco preso proprio dal seller, questo qua, in questione. Quindi quello che faremo noi è semplicemente prendere ad esempio la mascherina che è già stata fatta e andare a migliorarla e ottimizzarla in base alle parole chiave principali che abbiamo qui sulla sinistra. Come vedi, possiamo vedere quelle che sono state utilizzate e quelle no, e ci dice anche qui subito una specie di analyzer sulla sinistra molto utile che ci dice volume di ricerca generato 166.000 su 255.000. Quindi possiamo qui magari migliorare andando ad esempio ad aggiungere parole chiave nel listing, quindi nei punti elenco, titolo e così via. Ad esempio, scarpiera salva spazio slim se riguarda sempre il nostro prodotto, ovviamente. Quindi utilizziamo le parole chiave inerenti al nostro prodotto e che sentiamo anche essere quelle più corrette. Mi raccomando, come dico sempre, utilizza i dati, ma anche ciò che sei. Quindi uniscili e otterrai i risultati. Porta scarpe salva spazio. Ecco, queste qua, se noi le andiamo a inserire, ad esempio, porta scarpe salva spazio, lo inseriamo in un punto elenco. Ora ovviamente sarà solamente un esempio. Quello che succede è che... Aspetta, vediamo se riusciamo. Ecco, ce l'ha preso in questo modo qua mettendo una vircola. Vediamo che il volume di ricerca generato aumenta. Ovviamente questo è un esempio, però come vedi il listing è migliorabile. Si può aggiungere... Si può andare a ottimizzare ancora di più la visibilità del listing andando a inserire più parole chiave di quelle ovviamente inerenti. Quindi si può sicuramente migliorare. Come vedi, poi qui ci dice se c'è qualcosa o qualcos'altro che non va, ma più o meno tutto va bene. Anche qui comunque l'ideale sarebbe togliere le parentesi e mettere magari... senza le parentesi, che in genere rallentano un po' l'indicizzazione, ma comunque, come vedi, non dà problemi neanche per Alien 10. Bene, da qui inserirai tutti i punti elenco e titolo, poi andrai a copiare e incollare direttamente nel tuo listing in descrizione e punti elenco, copiando, cliccando sul copia e incolla. Ovviamente non vai a copiare e incollare il listing pari pari del seller e del competitor principale, ma lo vai a riadattare alla tua pagina prodotto. Ma come vedi è già settato e quindi diventa più semplice anche prendere spunto anche sulla base utilizzando i dati che abbiamo visto in ciò che dice il cliente. Quindi prendiamo i punti principali e li andiamo ad inserire per ovviamente andare a risolvere e a trasmettere ancora di più al cliente ciò che vogliamo, ciò che siamo e ciò che vogliamo andare a risolvere della sua situazione. Quindi con Alien 10 riusciamo ad avere tutti questi dati. Poi, ultimo step, usando sempre un altro strumento di Alien 10, andiamo su Index Checker e valutiamo effettivamente poi la nostra indicizzazione. Quindi una volta creata la pagina prodotto, che sarà finita, eccetera, andiamo a valutare dopo 24-48 ore se siamo indicizzati, come? Andiamo a mettere il mercato di riferimento, qui metteremo il nostro ASIN, facciamo finta che sia questo, cioè quello del seller principale. Possiamo anche verificare il seller principale se è indicizzato, ma lo faremo ovviamente con il nostro poi successivamente. Carichiamo qua dentro, una volta che viene trovato il prodotto, le parole chiavi, che sono queste, parole chiave. Le inseriamo qua dentro, incolliamo, verifichiamo e vediamo se l'ultima colonna diventa fleggata. Se l'ultima colonna cumulativo diventa fleggata, vuol dire che siamo effettivamente indicizzati e quindi la pagina compare correttamente nel motore di ricerca di Amazon. E come vedi, infatti, il seller principale, quindi quello che stiamo prendendo di riferimento dall'inizio, è effettivamente indicizzato su tutte le parole chiave. Questo lo faremo anche noi di controllo sul nostro listing una volta finito, quindi una volta inserite le informazioni principali, una volta in creato titolo, descrizione, punti, elenco con listing builder, a quel punto andiamo a verificare se è tutto indicizzato così. L'ultima colonna è fleggata, sei a posto. Le altre colonne non ci stai troppo a perdere la testa, semplicemente sono altri modi per indicizzare, ti basta cliccarci per vedere cosa sono, ma non ti interessa più di tanto. Ti dico ciò che ti serve a livello più semplice, più rapido. Se l'ultima è fleggata, sei a posto, avrai copiato e incollato il listing, a questo punto sarà finito, avrai salvato, salverai insomma e sarai a posto. La nostra pagina prodotto sarà pronta e finita per essere rifornita verso i magazzini di Amazon e da lì inizierà la nostra avventura effettiva. Grazie ancora per la tua presenza e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.